www.terramocalcio.com Ma adesso chiudiamo quella porta per ripartire più forti di prima Il futuro della società resterà presidente in attesa dello sconto sulla squalifica Il CDA sarà affiancato da un collegio di saggi Tragedia del Cavalcavia La procura indaga per istigazione o aiuto al suicidio Per l'identificazione si attende il DNA Storie di vita Una immobile nel letto, l'altra in volo col paracadute Liliana è serena e l'impegno per i disabili Cronaca il piromane seriale Torna a colpire la sesta vittima Una 500 celeste alla Cona Port Teramo Scacchioli, nuovo direttore sportivo Confermato Vivarini Si cercano due forti attaccanti e la padula Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte Chiedo scusa a tutti i tifosi biancorossi per non aver saputo difendere la serie B Che il Teramo ha conquistato meritatamente sul campo Era molto attesa la conferenza stampa del presidente Campitelli Ma chi si aspettava novità sugli ingressi societari è rimasto deluso Resterà presidente di un CDA Che sarà affiancato da un collegio di saggi I cui nomi non sono stati resi noti Il campionato, la campagna acquisti La triste vicenda di Savona Teramo Le condanne L'essersi circondato da persone non tutte corrette Il presidente tra l'emozione e gli applausi di una sala San Carlo gremita di tifosi Ha spaziato su tanti argomenti Ma ha ribadito di voler continuare e ha detto Se vogliamo ripartire dobbiamo chiudere quella porta Se non lo facessimo il rimorso schiaccerebbe ognuno di noi il servizio Campitelli presidente Può darsi che resterà tale anche Perché noi da lunedì rifaremo quello che dobbiamo fare Perché non alcuni Perché non erano ancora state Il verdetto non è stato ancora messo a punto Quindi Parsi che anche i punti e tutto il resto Possa essere sicuramente Estromesso da tutto E quindi ripartire A pari punti come le altre E giocarci il campionato da subito Presidente hai chiesto scusa per la prima volta Per non aver saputo difendere questa Serie B L'ho voluto dire in pubblico Ma io dentro di me Lo sapevo dall'inizio E le persone più vicine a me Lo sapevano tutte Quindi Ne ho parlato pure con tante persone vicine a me Ma oggi Fare colui che vuole distruggere gli altri Non dobbiamo fare nessuno Perché quello significa che siamo cresciuti Come popolo Come tifo Come tutto Cioè Tutti noi possono sbagliare Sicuramente qualcuno ha sbagliato Io in primis Ho sbagliato Assumiamoci tutte le nostre responsabilità Ripartiamo con grande determinazione E invito la stampa E come ho detto ai tifosi Che sia un anno Che dobbiamo difendere La nostra città Dobbiamo difendere il nostro Teramo Perché Lì non l'ho detto Ma il Teramo vale Il direttore sportivo Questo lo posso dire Sarà Gianluca Scacchioni Perché lui è il direttore generale E prenderà in questa prima fase Anche la parte del direttore sportivo Perché noi vogliamo fare qualcosa di nuovo Quindi qualcosa di diverso Spendere E investire Su persone Che vadano a vedere tutte le partite Quando più possibili E creare uno staff interno Che possa decidere Insieme all'allenatore Quali o quanti giocatori Possono essere utili Alla Teramo Calcio Il nostro budget Il prossimo anno Supera le 3 milioni e 6 3 milioni e 7 Quindi rispetto all'anno scorso Un milione in più E dico Che tutta la cittadinanza Deve starci molto 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 vicino Come lo dico a voi Ma voi Devo dirvi anche grazie Perché nell'ultimo periodo Ci siete stati vicini Tutti E adesso la cronaca Quattro giorni dal ritrovamento Dei resti Della donna Sull'A14 Tra Giulianova e Mosciano Continuano le indagini Per ricostruire l'accaduto La procura Titolare del fascicolo E il pubblico ministero Irene Scordamaglia Procede per istigazione O aiuto al suicidio Già effettuata La comparazione del DNA I cui risultati Sono attesi a breve Poi la procura Disporrà gli esami Necroscopico E tossicologici Solo dopo la risposta Dei tecnici Sul codice genetico Per confermare ufficialmente L'identità della vittima Si potrà affidare L'autopsia sui resti All'anatomo patologo Gina Quaglione Ieri Lo stesso PM Gli uomini Del centro operativo Autostradale Hanno effettuato Un sopralluogo Sul cavalcavia Sovrastante l'A14 Da cui la ragazza 19enne di Tortoreto Di cui si ritiene Siano i resti rinvenuti Sarebbe volata giù L'altezza della protezione Comparata con L'ipotizzata altezza Della giovane Oltre un metro e settanta Renderebbe compatibile La possibilità Che da sola E senza aiuto Abbia potuto scavalcarla Gli investigatori Hanno anche ascoltato Numerosi testimoni Tra familiari Amici e parenti Della 19enne Da quanto si apprende Sono in atto Altre indagini Per ricostruire Tutti gli eventi Di quella sera E la procura Attende eventuali informazioni Da chiunque Si sia trovato A passare In quel tratto Di autostrada Dopo la mezzanotte C'è molto probabilmente Anche in questo caso La mano del piromane Della panda Azzurra Dietro al rogo Che ha distrutto La scorsa notte Alla cona Una fiat 500 Di colore celeste I pompieri di teramo Sono intervenuti In via Bafile Per spegnere le fiamme Che avevano aggredito Un'utilitaria di proprietà Di una donna teramana Subito si è pensato Alla coincidenza Con altri cinque precedenti Quattro panda Di colore azzurro Tra le quali Una della croce rossa Del comitato locale Di teramo E una seat Di colore bianco Su cui indagano Gli uomini Della squadra mobile E della questura teramana I rilievi hanno stabilito Che ancora una volta Come negli altri casi L'incendio si è sviluppato Dalla parte posteriore Destra dell'autovettura Molto probabilmente Da uno pneumatico Serena è volata Da Liliana La donna malata Di sclerosi multipla Che qualche giorno fa Si è lanciata Con il paracadute Per richiamare L'attenzione di tutti Sulle condizioni di vita Dei malati Oggi è andata A casa della signora Liliana Con l'atterrato di teramo Per sensibilizzare tutti Sulla necessità Di una buona qualità Della vita Anche per i disabili Il servizio Serena Stucci È una donna pugliese Abita oramai da tempo A terra Ma è malata Da dieci anni Di sclerosi multipla Qualche giorno fa Si è lanciata Con un paracadute Per focalizzare L'attenzione Degli amministratori Dell'opinione pubblica Su una vita Dignitosa Per tutti i disabili E le persone Che hanno particolari patologie Questa mattina Intanto ha voluto Visitare la signora Liliana E' una malata Di Sla E intanto Lei è stata accolta Un grande entusiasmo Da Liliana Assolutamente Sì Era un incontro Che avevo programmato Da tempo Io ho conosciuto Tonino Diverso tempo fa E Liliana E' la mia forza Liliana E' il mio sorriso Liliana rappresenta tutti Lei ha detto Che ha voluto Fare questa esperienza Con il paracadute Perché lei ha voluto Mettere a disposizione Il suo corpo Che in quel momento Rappresentava il corpo Di tutte le persone Che hanno una disabilità Assolutamente sì Io mi ritengo Di fatto sono un disabile Ho conosciuto Cosa vuol dire Non poter camminare All'improvviso So cosa vuol dire Svegliarsi E non vedere più Ma mi ritengo Comunque fortunata Perché sono indipendente Loro purtroppo Sono prigionieri Di un corpo Che non è più loro E quindi ho detto Devo farlo Perché io sono libera Di potermi muovere E di potermi esprimere E l'ho fatto Spero che questo gesto Arrivi A chi Agli organi competenti Che possa Far capire loro L'importanza Di questo mio gesto Nelle mie condizioni E non è cosa da poco Ve lo posso assicurare Io adesso sto Vivendo un momento Particolare Perché comunque Il lancio Mi è stato faticoso Per la mia schiena Per le mie gambe Però continuo a lottare E lo farò Fino a quando Avrò la possibilità Di parlare Di muovermi E lo farò Anche quando non potrò Lei fa parte Lei fa parte Come molti altri Disabili Ma anche Genitori di disabili Rappresentanti Di associazioni Di questa nuova associazione Che si chiama Io sto con i disabili Ha portato proprio Una maglietta Con hashtag Io sto con i disabili A Liliana Stamattina Assolutamente sì Era un dono Questo Il mio gesto Le maglie Il video È tutto un dono E l'ho fatto con il cuore E continuerò a farlo Con il cuore Si è perso Fin troppo tempo Ora il sindaco Brucchi Deve solo Ritirare la delibera Che impone La compartecipazione Alle spese Per l'assistenza Ai disabili Da parte delle famiglie Riparliamo Nell'anno prossimo Non ha dubbi In questo senso Gian Guido D'Alberto Capogruppo del PD In consiglio comunale A Teramo L'intervista Al di là delle polemiche Bisogna ritirare Quel provvedimento Sì Noi manteniamo ferma La nostra posizione Ma per una ragione Molto semplice Il tempo ormai è scaduto Si è atteso troppo La situazione La situazione Va risolta Con una scelta Diciamo così Di fondo Per risolvere l'emergenza La delibera va Sospesa La compartecipazione Va rinviata Al 2016 E poi come abbiamo sempre detto Ci sederemo a un tavolo Per risolvere la questione In via generale Organica Per il prossimo anno Perché ripeto È passato troppo tempo La situazione di emergenza Ha ormai raggiunto Livelli altissimi Le famiglie sono In grandissima difficoltà Ormai la fine dell'anno È prossima Il sindaco Il sindaco continua A non percepire Questa Questa grande difficoltà Anche la questione Di aggiungere Un monteore A noi non ci soddisfa Fin quando non c'è La garanzia Che l'effetto Di questo monteore È praticamente uguale Alla sospensione Della delibera Perché è l'unica soluzione Che possiamo Accogliere in questo momento Ai pasticci Amministrativi Non si può intervenire Ecco Con interventi parziali O raffazzonati Va Azzerato tutto E va Adottato Quindi un atto Che è in linea Con quelli che sono I principi fondamentali Della nostra Costituzione Che pongono la persona Al centro E che devono garantire I diritti fondamentali La dignità sociale E l'uguaglianza Cosa che questa delibera Non fa Perché Compartecipare alla spesa È altro Questa non è una Compartecipazione Perché qui si scarica L'intero costo dei servizi Sulle famiglie L'abbiamo sempre detto E continuiamo a ribadirlo E anche la scelta minimale Di elevare La seconda soglia Dell'Isee A 21.000 euro Ci sembra Una scelta assolutamente Una correzione Assolutamente irrisoria E anche offensiva Perché non risolve Non risolve il problema La gara di progettazione Per realizzare La nuova conduttura Dell'acquedotto Del Ruzzo Che collegherà Il potabilizzatore Alle utenze Della costa Terramana Sarà bandita Entro ottobre Ma i lavori Potranno partire Solo nel 2018 Perché l'iter burocratico È molto lungo Lo ha detto Il presidente del Ruzzo Antonio Forlini Che sulla carenza idrica Estiva Ha precisato Ci metterei la firma Per ripassare Un'estate come questa Nonostante l'AFA È andato tutto bene Sentiamolo Potrebbero arrivare presto Dalla regione I fondi Per collegare Il potabilizzatore Alla costa Terramana Sì Abbiamo fatto Un incontro In settimana Con il presidente D'Alfonso Che ci ha confermato La disponibilità Dei fondi Da parte Del ministero Delle infrastrutture Per finanziare Questa opera Ci ha sollecitato A pubblicare Il bando di gara Perché soltanto La pubblicazione Del bando di gara Consentirà L'impegno Di questa risorsa E quindi Il fatto che Non ci possano essere Poi dubbi Che questa ci venga Assegnata E derogata Nei prossimi anni Un'opera importante Perché? Importante perché Consente Di eliminare Definitivamente Le criticità Di approvvigionamento Idrico Della costa In quanto La costa Che oggi Viene servita Con due adduttrici Che da Roseto Risalgono Verso Martinsicuro E che d'estate Sono ai limiti Della loro capacità Verranno ulteriormente Potenziate Con questo innesto All'altezza di Giulianova Se i soldi Arriveranno Come pare Quali saranno i tempi? Dunque i tempi Probabilmente Noi bandiremo La gara Entro il mese di settembre Al massimo I primi di ottobre Ci vorranno Diversi mesi Perché la gara Perché il progetto È piuttosto complesso Presumiamo Che la gara Possa andare In aggiudicazione Tra la fine Del 2015 E l'inizio Del 2016 E l'inizio Del 2017 E i fondi Dovrebbero essere Disponibili Fra il 2017 E il 2018 Si sta concludendo Un'estate caldissima Una delle più calde Degli ultimi anni Come è andata La gestione dell'acqua? Ci sono stati Problemi O emergenze idriche? Guardi Io A dispetto forse Di qualcuno Che dirà il contrario Metterei una firma Per rivivere Un'estate come questa Nonostante il caldo Perché Tutto sommato Al di là Di un problema Che si è generato Un po' prima di Ferragosto Per via di una Di una rottura Peraltro Non causata da noi Ma da un'impresa Che stava lavorando Sull'alvio del Borsacchio E che quindi Poi ha generato Qualche contraccolpo In particolare A Martinsicuro Perché c'è stata aria Nella rete E quindi Non tutte le abitazioni Hanno ripreso acqua In maniera Contemporanea E costante Quindi abbiamo dovuto Fare degli interventi Ulteriori Per poter liberare Dall'area la rete Però al di là Di queste piccole criticità A macchie di leopardo Circoscritte a poche abitazioni Direi che l'estate È andata molto bene Le manovre Che avevamo concordato Anche con i sindaci Della costa Per riuscire A dare qualche decina Di litri in più Al secondo Alla costa Hanno dato Un buon risultato E credo che Di questo Si debba essere Tutti soddisfatti Problemi con i depuratori Anche sulla costa Pescarese Il vice sindaco Enzo Del Vecchio Promette interventi Per risolvere Il problema Delle acque inquinate Prima di tutto Spiega Del Vecchio Bisognerà sistemare I depuratori Per cui la regione Stanzierà circa 200 milioni di euro Il servizio Ma se la conduttura Funziona E i rilievi Dell'Arta Dicono che Di fronte a via Mazzini A via Balilla Gli scherichacoli Sono fuori limite Da che cosa dipende? È una domanda Ormai che si ripete Da decenni Sappiamo tutti Che nel mare di Pescara Sfocia un fiume Che è fortemente Inquinato Lo è stato Prima per aspetti Di natura chimica Dovuta Dall'insediamento Di bussi E lo è stato Sempre per quanto Riguarda Diciamo L'aspetto Batteriologico Quello che è Drammatico Che mai Si è pensato Di intervenire Sul fiume Intervenire Sugli scarichi Abusivi E questa È la riprova Provata Come dire Il depuratore Funziona Nessuna condotta Si rompe Ma le acque Sono non baldeabili Quindi ci sono Fattori terzi E quando mai Sono stati affrontati Questi fattori terzi Oggi dobbiamo dire Che finalmente La regione Abruzzo Si resse conto Di questo problema E cioè La situazione Dei depuratori Nella regione Abruzzo Stanziando circa 200 milioni 8,5 milioni Destinati al depuratore Di Pescara E poi ci sono Gli interventi Per quanto riguarda Il DK15 Che sono partiti Proprio in questi giorni Così come Il Genio Civile Sta intervenendo Su Fosso Grande Un'altra realtà Dove vengono fuori Scarichi abusivi Che dovranno essere Riconvogliati Verso il depuratore È un'attività Che stiamo facendo Sul comune di Pescara In maniera pressante Nel corso di questo anno Finalmente Ci siamo Finalmente Abbiamo affrontato Il problema Così come Doveva essere affrontato Forse da tanti Tanti anni E cambiamo Decisamente Argomento Giuliani Come la Padula Il maggiore Dei carabinieri Che lascia Il reparto operativo Di Teramo Per approdare A Chieti Al comando regionale Durante la cena Di commiato Al microfono Davanti a tutti Ha chiesto Alla fidanzata Di sposarlo Vediamo Dal bomber Al maggiore Dei carabinieri Il passo non è breve Ma sia l'ex attaccante Del Teramo Gianluca La Padula Che il maggiore Dei carabinieri Nazario Giuliani Hanno manifestato In pubblico Ciò che di solito Viene mostrato Solo in privato Il comandante Del reparto operativo Dei carabinieri Di Teramo Lascia la nostra realtà Dopo otto anni Di lavoro Nel corso Dei quali Si è venuto a capo Di una decina Di delitti Scoprendone I responsabili Su tutti Il caso Parolisi E a proda A chiedi Presso il comando Regionale dell'arma Durante la cena Di commiato In cui si è fatto Valere Anche come cantante Il maggiore Ha sorpreso tutti Anche la sua fidanzata Quando al microfono Le ha chiesto Di sposarlo Così come fece Il bomber La Padula Prima dell'ultima gara Di campionato In casa Contro Lascoli Sono accadute Tante cose Che Potrebbero aver fatto Pensare a te Che non fosse vero Però io ti volevo Chiedere Visto che ormai Ci stiamo consolidando In un passaggio Nel tempo Appena riuscirò A sistemare Un paio di cose Che tu puoi Comprendere Benissimo Se vuoi Diventare mia moglie Questa è la mia Applausi Grazie 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 Ci siamo in solo, sicuro di non perdereci, non lasciarci mai. Auguri dunque al Maggiore Giuliani e alla futura sposa. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle di Montesilvano si dimette. Nessuna polemica, anzi per Manuel Antelli è una decisione in linea con il Movimento. Sceglie la piazza, piazza Diaz, davanti al comune di Montesilvano per annunciare le dimissioni da capogruppo e consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Nonostante la giovane età, Manuel Antelli è già stato candidato sindaco per due volte dei pentastellati e soprattutto ha condotto sul territorio numerose battaglie per i diritti e la partecipazione democratica dei cittadini. Antelli spiega che le sue ragioni sono di coerenza con il Movimento 5 Stelle. Non potendo più garantire il tempo full time che garantivo al Movimento e alla mia città, poco prima di essere portato via per motivi lavorativi, ho deciso di fare il passo indietro. Non credo sia corretto venire solamente ai consigli comunali, la città va vissuta, la città va cambiata sul territorio e per questo per correttezza ho deciso di cedere il passo a un nostro attivista, a Cristian Di Carlo, attivista della prima ora, una grande persona che sono sicuro prenderà il posto mio in maniera igreggia e che continuerà questa battaglia per portarci dai banchi dell'opposizione finalmente a governare questa città. Una scelta condivisa con la base del Movimento 5 Stelle ma anche con i vertici? Assolutamente sì, è una scelta condivisa soprattutto con la base, quello che mi interessava è avere il feedback della mia assemblea che è quello che mi ha sempre sostenuto sia nella prima amministrazione che nel secondo mandato, per questo che ho chiesto loro un parere e loro ovviamente hanno detto di sì, per questo che sono anche contento di lasciare un gruppo solido, forte. Chi non ha soldi per pagare una tassa del Comune come l'Atari potrebbe in cambio fare qualche lavoro per l'amministrazione come ad esempio tenere pulito un parco cittadino. La proposta di baratto amministrativo lanciata dal Movimento 5 Stelle di Giulianova è piaciuta anche alla maggioranza. Sentiamo. Margherita Trifoni è il capogruppo in Consiglio Comunale Giulianova del Movimento 5 Stelle. Una proposta vostra che è stata subito presa anche dalla maggioranza relativa al baratto amministrativo. Di che cosa si tratta? Allora, il baratto amministrativo è un'iniziativa del Movimento 5 Stelle già presentata in diversi comuni dell'Abruzzo attraverso un ordine del giorno e noi abbiamo fatto lo stesso. Un'iniziativa che ha accolto, devo dire, delle risposte positive per fortuna e speriamo che sia così effettivamente anche a Giulianova. Perché di che cosa si tratta? Il baratto amministrativo dà la possibilità ai cittadini che si trovano in una situazione di disagio economica di poter pagare le tasse locali lavorando per il Comune. Domanda, visto che è di attualità, compresa l'Atari? Ah, penso di sì, sì. Tutte le tasse comunali. Le tasse comunali? Sì, le tasse comunali. Allora io non posso pagare, che posso fare? A lei, che ne so, magari il Parco Franchi che in questo momento versa in posizione un po' diciamo... Di abbandono? Eh, per usare un eufemismo, di abbandono totale direi. Sì, no, no, il Parco Franchi per esempio, che ne so, magari... Lo falcio dell'erba. Il cittadino dice non riesco a pagare l'Atari del 2014-2015, mi offro per pulire, per tenere il Parco Franchi pulito per un anno, per due, per quello che serve. Innanzitutto i cittadini riescono a pagare, quindi a fronteggiare le tasse e poi il Comune si ritrova, senza dover fare appunto, senza dover impiegare, fare contratti eccetera, si ritrova quindi ad avere questa nuova forza. Una proposta che ha fatto proprio subito il Partito Democratico è ieri in maggioranza il Sindaco e voi se ne contenti? Sì, vabbè, noi abbiamo presentato esatto, l'ordine del giorno abbiamo presentato un po' di tempo fa, però se loro lo prendono in considerazione e lo aprono, benvenga. Prima dell'avvicendamento con il nuovo responsabile della Capitaneria di Porto di Giulianova, il Tenente di Vascello Clarissa Torturo, l'ex comandante Sandro Pezzuto ha riaperto ufficialmente al passeggio il Molo Sud di Giulianova. La sua soddisfazione è quella del Presidente dell'Enteporto e del Sindaco di Giulianova nel servizio che segue. Ci lascia, ma ci lascia con una buona notizia. Sì, oggi finalmente siamo arrivati, siamo giunti alla tanto spiegata apertura della sbarra del Molo Sud che giunge dopo una serie di interventi manutentivi, possi in essere dalle amministrazioni sia quella comunale che quella rappresentata dall'Enteporto, che hanno fatto sì, in stretta sinergia con quella marittima, di porre in essere quegli interventi minimi di messa in sicurezza e consentire così alla camminata storica di Giulianova, posto sul Molo Sud, di essere furibile per tutti i pedoni. Erano anni che si pensava di far questo. Noi siamo stati, come Consiglio di Amministrazione, ci abbiamo puntato, anche perché siamo stati sollecitati dal Comandante Pezzuto a far sì che questa realtà portuale del Molo Sud venisse messa in sicurezza e venisse data quella giusta considerazione che veniva data. Abbiamo rifatto l'asfalto, abbiamo messo in sicurezza la parte nord del Molo Sud, abbiamo rimesso le luci che da tanto si aspettavano. Tra l'altro in modo anti-vandali. anti-vand, speriamo, qualcuno, qualche malintenzionato tenderà anche di rompere queste qui, però noi cercheremo di fare buona guardia, tra virgolette, e speriamo che questi malintenzionati non demordano da questo impegno. Presidente, quant'è costata tutta l'opera? Tra luci ed asfalto, tutto quanto, sicurezza e tutto quanto abbiamo speso intorno ai 35 mila euro. Dopo quattro anni riapriamo alla fruibilità piena la passeggiata del porto. Il tratto del Molo Vecchio, cominciato a realizzare nel 1913, è finito nel 1922, quindi ha un secolo di vita. Questa è la dimostrazione di come insieme si possono fare tante cose. Stiamo lavorando in questi giorni anche per risolvere un altro problema, cioè quello di collocare in questo spazio portuale delle imbarcazioni della pesca in altri settori consoni e acconci alla loro sicurezza, liberando spazi sulla banchina di riva a disposizione del di porto. Anche a Teramo i sostenitori del nuovo movimento di Civati, possibile, raccolgono le firme per proporre nove referendum, il servizio. Parte con il referendum il nuovo progetto politico di Pippo Civati che dopo l'uscita dal PD ha dato vita al movimento possibile e che ora lancia un nuovo contenitore che raccolga a sinistra le forze alternative al partito del Premier Matteo Renzi. Anche in provincia di Teramo sono diversi i sostenitori del progetto e da oggi si raccolgono le firme per i nove quesiti. Siamo stati in prima linea a combattere le politiche berlusconiane, le riforme che proponeva Berlusconi, diciamo che queste riforme proposte e poi approvate da Renzi sono le stesse che voleva portare avanti Berlusconi e quindi con coerenza dicevamo no a quelle riforme e diciamo no a queste riforme. Questi te referentari che trattano materie importanti, si va dalla legge elettorale per poi passare alla questione della difesa del territorio e dalle trivellazioni, quindi lo sblocco Italia e poi l'altro referendum importante che riguarda l'articolo 18 e poi l'ultimo quesito referendario anche importante riguarda la possibilità al manager preside di nominare la sua discrezione. Quindi diciamo che ci opponiamo a queste riforme che vanno nella maniera opposta per chi rappresenta una posizione di centro-sinistro. Quante firme vanno raccolte a livello nazionale? L'iniziativa prevede la raccolta di almeno 500.000 firme che dovranno essere depositate entro il 30 settembre, quindi i tempi sono molto ristretti, però l'iniziativa già nonostante sia appena iniziata sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista di alcune delle otto tematiche poste da Civati per quanto riguarda il referendum. Quelle più sentite quali sono? Sicuramente i quesiti più sentiti sono quello sulla possibilità di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, quindi il fatto che le preferenze siano state escluse o meglio, siano stati previsti dei cavolisti bloccati è uno dei temi più sentiti insieme a quello naturalmente della scuola. Dalle 7 di dopodomani, lunedì 7 settembre, fino a venerdì 11 settembre o comunque fino al termine dei lavori, il tratto di Viali Crispi interessato dagli interventi dinanzi alla scuola primaria Noe Lucidi sarà chiuso al traffico per tutto il giorno per permettere i lavori di pavimentazione e di realizzazione del cordolo spartitraffico centrale. Le strade alternative indicate dal comune sono le seguenti. Circonvallazione Ragusa, via Noe Lucidi per chi proviene da Ponte San Ferdinando, via Cesare Beccaria, via Madre Teresa di Calcutta per chi proviene da Circonvallazione Spalato. La convenzione è pronta. A giorni la firma e poi la società del Chieti Calcio avrà la gestione dello Stadio Angelini, non solo per le manifestazioni sportive. Sentiamo. Noi teniamo tantissimo che questa società possa far bene per riportare i colori della nostra città nel calcio che conta. Quindi massima collaborazione con la società e massimo appoggio alle iniziative che la stessa vorrà portare avanti. Oggi noi vorremmo presentare una serie di eventi, iniziative per cercare di avvicinare il maggior numero possibile di tifosi allo stadio proprio per sostenere gli sforzi della società Chieti Calcio. Nello stesso tempo vogliamo garantire la possibilità alla Chieti Calcio di poter fare anche degli eventi che vanno oltre lo sport, perché riteniamo che una struttura, quale quella dello Stadio Angelini, possa essere polifunzionale e quindi ospitare altri tipi di manifestazioni. Ci può fare qualche esempio? Per esempio spettacoli, spettacoli musicali. Tutti gli stadi ospitano spesso concerti e quant'altro e quindi daremo anche al nostro stadio la facoltà di fare questo. Tutto ciò attraverso una convenzione che noi andremo a fare con la Chieti Calcio e con le società di atletica che comunque usufruiscono di questa struttura. La convenzione già è pronta, sarà firmata a giorni dove andremo a disciplinare tutti gli accordi e quindi tutta la fase gestionale del nostro stadio. Nel senso che noi abbiamo in mano lo Stato, la concessione da parte del Comune, noi ci attiviamo subito per far sì di fare un calendario da subito per tutta la stazione estiva 2016. Sta a significare che sperando che vinciamo a maggio, l'ultima la quale giochiamo in casa così festeggiamo tutti insieme, noi contro la chiesina. Sperando di festeggiare a maggio, logicamente giugno, luglio, agosto di fare eventi che possano portare il centro all'interno per cui sinergie nuove, come stava detto nel primo giorno, da riportare all'interno delle casse della Chieti Calcio. Teatro, cinema, musica, arti visiva e danza al Festival Il Fiume e la Memoria, diretto da Milo Vallone nella splendida cornice del Centro Storico di Pescara, due passi dalla casa natale di Gabriele D'Annunzio. La kermesse si svolgerà dal 7 al 13 settembre. Il servizio. Il Centro Storico di Pescara, il luogo che diede i Natali a Gabriele D'Annunzio e Degno Flaiano, torna finalmente ad essere di nuovo centro di cultura. Riparte quest'anno il Festival diretto da Milo Vallone, Il Fiume e la Memoria, una manifestazione che ha visto e rivede oggi coniugare cinema, musica, teatro, arti visiva e danza. Quest'anno 101 gli artisti coinvolti e 9 gli organizzatori che si stanno adoperando per la rinascita della kermesse che per un decennio ha reso artisticamente viva Pescara Vecchia. Tutte le 110 persone coinvolte hanno prestato lavoro senza ricevere nessun compenso, il loro impegno per amore della città e del Festival. Un'edizione che abbiamo in qualche modo sottotitolato La Rinascita, sia perché appunto rinasce un po' il Festival, è quello che ha rappresentato, ma ci auguriamo che rappresenti anche la rinascita dei luoghi che questo Festival abita e coinvolge. Un centro storico molto prezioso a Pescara semplicemente perché è così piccolo da diventare, proprio per questo prezioso non abbiamo una grande, purtroppo, memoria storica da un punto di vista architettonico urbanistico, è tutto concentrato in quelle strade. Questo Festival contribuì fortemente una quindicina di anni fa nel rivalutare quella zona che era un quartiere periferico in pieno centro. Un cartellone di alta qualità però avendo dimezzato il tempo a disposizione e avendo ridotto di tantissimo il budget. Sì, il miracolo è questo, noi più o meno adesso faremo un cartellone molto ricco, rispetto un po' anche al deserto culturale che c'è, se fosse la prima edizione di una manifestazione nuova sarebbe, inizierebbe insomma in un modo molto ricco di contenuti. Rispetto a quello che era il Fiume alla Memoria sicuramente alla fine faremo un decimo, però lo stiamo facendo con un cinquantesimo delle risorse, quindi lo scarto è notevole. L'augurio è che nel giro di qualche anno il Festival torni a vestire la gloria dei primi anni 2000. La villa comunale a Teramo piace e la conferma è arrivata dal successo della prima serata della manifestazione La Villa Suite che ieri sera ha richiamato tanti teramani e stasera si replica però con i DJ, vediamo. Successo per la prima serata della Villa Suite a Teramo e si replica stasera? Certo, bellissima serata, ieri sera alla villa con musica live, buon cibo, tanta gente che ha voglia di divertirsi per fortuna a Teramo nonostante tutto. Stasera si replica e stasera invece sarà una serata con i DJ, ci sono Filippo Porrini e Mauro Pomponi, quindi si balla e si mangia anche stasera per chi vuole mangiare. Non riscopriamo, non scopriamo perché la villa è stata già teatro in passato di tantissimi eventi. La villa funziona e piace? La villa funziona e devo dire che mi fa piacere perché i teramani forse di ritorno al mare hanno ancora voglia di divertirsi, io credo che si debba replicare. A che ora stasera? Stasera dalle 21 sempre si può cenare e poi chiaramente la musica inizia un po' più tardi, la musica stasera sarà una serata disco, prettamente disco, mentre ieri sera è stata più live con musica anni 70-80. Replicare nel mese di settembre nel senso che volete utilizzare la villa prima della fine della stagione estiva per altre manifestazioni? Ma sì, io credo che la villa vada utilizzata non solo naturalmente per eventi di carattere musicale, anche per mostre, manifestazioni di qualsiasi tipo e si presta per un luogo che si presta a tantissimi usi, quindi invito i proponenti che hanno voglia di fare qualcosa, magari invece di fare sempre a Piazza Martiri, di fare eventi, potremmo pensare di spostarci in un luogo dove oltretutto la notte ci sono un po' meno lamentele dei residenti perché è un po' più isolato. domani sera, domenica 6 settembre alle 21 nella Sala San Carlo del Museo archeologico di Teramo si terrà il primo appuntamento della rassegna polifonica prutina organizzata dalla Corale Verdi, in concerto il prestigioso coro norvegese di Oslo, Greeks Vocalis, già vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. L'ingresso è libero. Adesso vediamo che tempo farà domani con le previsioni di meteoteramo.it Previsioni per domenica 6 settembre in Abruzzo, al mattino parzialmente nuvoloso sui settori litorane e montani, parzialmente nuvoloso sui settori collinari, nel pomeriggio poco nuvoloso sui settori orientali, poco nuvoloso sui massicci appenninici, tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia sulle zone interne e sui rilievi, poco nuvoloso sulle zone marittime, temperatura in lieve diminuzione, massime comprese tra 23 e 26 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 28 e 31 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli o moderati nord orientali, mare quasi calmo o poco mosso, in provincia di termo al mattino parzialmente nuvoloso sulle aree litorane e montane, poco nuvoloso sulle aree collinari, nel pomeriggio poco nuvoloso su diverse aree del territorio provinciale, tra sera e notte poco nuvoloso, temperatura insensibile diminuzione, massime comprese tra 26 e 29 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 25 e 28 gradi sulle coste, venti deboli o moderati settentrionali, mare quasi calmo o poco mosso. Campitelli non lascia, anzi raddoppia, l'obiettivo è quello di riconquistare la Serie B, si cercano due attaccanti capaci di fare la differenza, uno di questi potrebbe anche essere la Padula per il quale è in corso una trattativa e questo è in sintesi il contenuto della conferenza stampa che il patrone bianco-rosso ha tenuto oggi alla Sala San Carlo di Teramo. Sentiamo. Vincenzo Vivarini sidera sulla panchina del Teramo anche nella stagione che sta per iniziare e questa la principale novità emersa nel corso della conferenza stampa che il presidente Campitelli ha tenuto quest'oggi alla Sala San Carlo del Museo Civico di Teramo. Sarà ancora una volta il tecnico di Ari, quindi il condottiero del diavolo, un diavolo che sul mercato si muoverà attraverso Gianluca Scaccioli. Le principali operazioni infatti saranno portate avanti dall'attuale direttore generale bianco-rosso che per il momento opererà quasi come un DS. Tutti i movimenti saranno tesi a garantire al Teramo una grande squadra, una squadra che possa riconquistare sul campo quella Serie B persa nei tribunali. Lunedì ci saranno i primi movimenti d'entrata con l'arrivo in prestito di tre giovani dal Pescara, Vitturini, Bulevardi e Monni. Quasi certo anche l'ingaggio di due punti capaci di fare la differenza in categoria. Campitelli a tal proposito ha precisato che non c'è alcuna fretta, visto che sarà possibile piazzare i movimenti fino al prossimo 20 settembre. Confermata, infine, l'esistenza di una trattativa per il ritorno di Gianluca Lapadula, trattativa che potrebbe decollare all'inizio della prossima settimana. Noi un attaccante di valore da Silva ce lo abbiamo ed è molto molto forte. Ci sta crescendo di domenica in domenica. Ho parlato col mister e ha detto che questa sarà la rivelazione del prossimo anno se lui farà determinati passi da calciatore. Due punte. Sicuramente siamo in trattativa con tante punte, ma scegliere due punte che piace al tecnico, perché noi questo vogliamo fare, è la cosa più difficile. Perché oggi ci sono tante punte che forse vengono per svernare, che forse vengono per fare un anno qui, giusto senza grossa voglia e grossa determinazione. Noi vogliamo che le punte che vengono a Teramo vengano per dare più del dovuto e per far sì che il Teramo possa lottare ai vertici. I tifosi sognano Lapadula? Per quanto riguarda Lapadula noi col Pescara stiamo parlando. Il Pescara in questo momento ci è stato vicino. Arriveranno dal Pescara tre giovani importantissimi e bravissimi che si aggregheranno a noi da lunedì. Vittorini è uno di quelli che loro domani hanno dieci squalificati e quindi non sono potuti venire prima. Da lunedì saranno ancora tre giovani del Pescara, ma giovani molto molto bravi. Quindi noi dobbiamo aspettare, abbiamo 20 giorni, non ci dobbiamo far prendere dalla fretta, perché se noi ci facciamo prendere dalla fretta sicuramente facciamo degli errori. Io voglio due punte fortissime, perché fino adesso i campionati li ho vinti per le punte forti che noi avevamo avuto. Potevate dire Donnarumma, Donnarumma credo che il Teramo in Serie C non si può permettere di spendere 550 mila Euro per un giocatore. Detto questo, il nostro budget il prossimo anno super le 3 milioni e 6, 3 milioni e 7, quindi rispetto all'anno scorso un milione in più e dico che tutta la cittadinanza deve starci molto 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 vicino, come lo dico a voi, ma a voi devo dirvi anche grazie perché nell'ultimo periodo ci siete stati vicini tutti. E intanto domani parte ufficialmente il campionato di Lega Pro. Questo il programma delle gare di domani. Girone B prima giornata, L'Aquila Pistoiese, tutto cuoio Rimini, Lupa Roma Maceratese, Pisa Prato, Robursiena Carrarese, Spal 2013 Lucchese, Sant'Arcangelo Arezzo, Savona Pontedera e Ancona Teramo. Lo vedete questa gara è stata, come sapete, posticipata. Due i big match di giornata, il derby tutto toscano Pisa Prato e Spal Lucchese. L'Aquila fa il suo esordio in casa contro la Pistoiese. Al fattore il fischio d'inizio è fissato alle 15. Il neotecnico rosso-blu Perrone dovrebbe optare per il 4-3-3. L'unico dubbio è in difesa dove Bigoni e Di Mercurio sono in ballottaggio per una maglia da titolare. Ricordiamo inoltre che il Teramo farà il suo esordio tra sette giorni, domenica 13 settembre, quando al Bonolis arriverà la corazzata Pisa. E domani pomeriggio parte ufficialmente anche il campionato di Serie D. Anche di questo campionato vediamo le gare in programma nella prima giornata. Girone F, Avezzano San Nicolò, Campo Basso Recanatese, Castelfidardo Iesina, Chieti Agnonese, Fano Giulianova, Fermana San Benedettese, Matelica Isernia, Monticelli Amiternina e Vispesaro Folgore Vergara. Con il prossimo servizio vi presentiamo tutta la giornata. Il Campo Basso, la squadra da battere nel nuovo torneo di Serie D che parte domani pomeriggio. Mai come quest'anno, la compagine molisana è infatti la grande favorita per la promozione diretta in Lega Pro. Il Rosso Blu in panchina si sono affidati a Roberto Cappellacci, tecnico esperto che appena 4 anni o sono fu capace di vincere il massimo campionato direttantistico nazionale, riportando il Teramo tra i professionisti. All'allenatore di Tortoreto è stata affidata una vera e propria corazzata, impergnata sui gol di due vecchie conoscenze del calcio teramano, Dimash Gonsalves e Andrea Bucchi. I lupi possono contare su tanti big anche negli altri settori del campo. Gli ex Teramo Gattari, Ferrani e Valentini e i giuliesi Bontà e Censori sono sinonimi di qualità. In prima fila, la grande antagonista del Campo Basso è l'arma Juventus Fano. I marchigiani hanno rinnovato la fiducia a mister Alessandrini, andando a rinforzare l'ossatura della squadra che lo scorso anno lotto fino all'ultimo per il primo posto. Ai vari Nodari, Torta, Borrelli, Sivilla e Gucci si sono aggiunti i chiacchiarelli Buongiorno e Falsaperla. Per i Granata, quindi, la conferma nelle alte sfere della classifica è quasi un obbligo. Tra le possibili outsider ci sono anche la San Benedettese, che ha messo sotto contratto il fantasista Titone, e il Matelica, che si è assicurato i gol del Bomber Bicci. Tra le Bruzzesi, invece, da seguire ci sono soprattutto Chieti e San Nicolò. I neroverdi, che in estate sono passati nelle mani del nuovo patron Pomponi, possono fare affidamento su Dos Santos, Varone, Surriano e Sbardella, tutti elementi che garantiscono un buon rendimento. I biancazzurri, invece, puntano a ripetere lo strepitoso campionato dello scorso anno, culminato con la qualificazione playoff. La squadra non è stata smantellata, ma è stata rinforzata dagli arrivi di alcuni pezzi da 90, come Margarita, Merlonghi e Forgione. E le altre abruzzesi? Avezzano, Amiternina e Giulianova puntano sui giovani e hanno come unico obiettivo quello della salvezza. I marsicani scommettono su Di Massimo, Persi e Bittaglie. Gli aquilani puntano sulle reti di De Matteis, mentre i giallorossi aspettano l'acquisto di un attaccante da affiancare a Giampaolo, prelevato dall'eccellenza laziale. Il programma della prima giornata si comincia subito con un derby, quello del De Marsi tra l'Avezzano e il San Nicolò, una gara che almeno sulla carta dovrebbe garantire spettacoli ed emozioni. Il Giulianova, invece, va a Fano, in una trasferta che si annuncia tutt'altro che facile. La Amiternina, invece, discena il del Duca di Ascoli contro il neopromosso Monticelli. Cerca, infine, la vittoria, il Chieti, che esordisce ospitando un agnonese fresca di ripescaggio. Vacanze finite anche in eccellenza abruzzese nel massimo torneo dilettantistico regionale. Domani pomeriggio, infatti, ricominciano le ostilità con la prima giornata di campionato. Questo il programma delle gare. Celano, Francavilla, Cupello, Torrese, Martinsicura, Quessapone, Emiglianico, Capistrello, Montorri, 88, Paterno, Pineto, Bastese, Renato Curia, Angolana, Alba, Adriatica, San Buceto, San Salvo e Valdisangro, Morro, Doro. Con il prossimo servizio vi presentiamo, invece, la prima giornata di eccellenza. Pronti via e nel campionato di eccellenza è subito tempo di big match. Nel massimo torneo dilettantistico abruzzese la sfida più interessante della prima giornata è infatti lo scontro diretto Pineto-Vastese, due tra le formazioni più quotate nella corsa al salto di categoria. I pinettesi del neotecnico Donatelli partono con i favori del pronostico, visto che nell'estate si sono rinforzati con gli innesti dei vari Orta, Francia, Fruci, Pigliacelli e Scartozzi, tutti giocatori che in passato hanno militato in squadre più blasonate, anche del calcio professionistico. La Vastese, però, non vuole recitare il ruolo di vittima sacrificale, ma anzi, con i suoi colpacci della prima ora, di Abboni ed Alessandro su tutti, cerca di centrare un doppio obiettivo, partire bene per poi disputare un campionato di vertice. Altra formazione accreditata alla promozione è la Renato Curiangolana, con il mister Tatomir che può contare su un attacco a 5 stelle, i bomber Lalli, Bordoni, La Selva, Di Luca e Dragani. I nerazzurri esordiscono contro un avversario di basso lignaggio, l'alba adriatica, con pagine giovanissima e falciliata dagli infortuni. Tra le protagoniste del torneo c'è anche il paterno che, pur avendo perso Aquino e Bolzan, può contare sull'apporto dei nuovi acquisti, pendenza, micichè e Paris. I marsicani sono di scena sul campo di un Montorio che, rispetto alla scorsa stagione, ha cambiato 8 undicesimi della sua formazione titolare. Grande curiosità, poi, c'è attorno al nuovo celano di Felice Fidanza, chiamata a riscattare la bruciante retrocessione incassata lo scorso maggio. I marsicani sfidano in Francavilla, una tra le possibili outsider del torneo. Per quanto riguarda le altre, il Martinsicuro riceve l'acqua e sapone, in una sfida che mette di fronte due compagini chiamate a centrare la salvezza. Stesso obiettivo che rincorrono anche la Torrese, che esordisce a Cupello, e il Morro d'Oro, quest'ultimo di scena sul campo dell'altra neopromossa del Girone, la Val di Sangro. Il programma prevede anche Miglianico Capistrello e San Buceto San Salvo, due gare in cui si sfidano delle squadre uscite rivoluzionate dal mercato, ma non per questo meno vogliose di disputare un torneo d'avanguardia. Subito dopo questo telegiornale potrete seguire sulla nostra rete la ripresa integrale della conferenza stampa di questa mattina del Presidente del Teramo Luciano Campitelli. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Buona serata e buona domenica. Grazie a tutti.